Niente da fare per Ilari Blasi. La brutta notizia è venuta fuori nelle ultime ore, infatti sarebbe stata esclusa dal programma Mediaset più atteso. C'era già grande fermento tra il suo pubblico per vederla al lavoro in questa trasmissione, ma le carte in tavola sarebbero cambiate improvvisamente e per lei arriverebbe una vera e propria doccia gelata. Infatti, Ilari Blasi sarebbe stata esclusa dal programma Mediaset stando a quanto filtra dai corridoi dell'emittente di Pier Silvio Berlusconi. Pareva essere in pole position per diventare la conduttrice e addirittura sembrava quasi che mancasse unicamente l'ufficialità, invece ci sarà qualcun altro al suo posto e questo per lei non potrà che rappresentare una delusione. Ilari Blasi era stata data in lizza per la conduzione di una trasmissione, che tornerà in auge a tanti anni di distanza dall'ultima volta. Ma ora pare sia stata esclusa da questo programma Mediaset, che dovrebbe rivedere la luce nel 2025. A parlarne è stato il sito momag.com, tramite l'intervento della giornalista Grazia Sanbruna, che è stato ripreso dal sito Novella 2000. Secondo questi rumor, Ilari non diventerà la presentatrice del reality show La Talpa, una fonte mi ha riferito che i vertici non le affideranno più lo show per fortuna. Nei prossimi giorni verrà annunciato ufficialmente chi prenderà il suo posto. Non siamo a conoscenza del nome in questione, anche perché non è chiaro se sia una donna o un uomo. Tutto resta ancora ignoto, anche se l'unica certezza sembra essere la conferma della Talpa. Bisognerà pazientare ancora qualche giorno prima di sapere chi guiderà la trasmissione, anche se c'è chi sogna il nome di Paola Perego. Il video finisce qui, ma se sei interessato alle news, puoi iscriverti al canale e attivare la campanella per non perderti i nuovi video.